COMBATTI ORION Ho sentito parlare del grande Cosmir Un avversario davvero potente Frecciamento Frecciamento, frecciamento, frecciamento È molto potente e molto veloce Quindi dobbiamo essere molto più veloci Spariamo un sacco di frecce tutte nello stesso momento Sembra davvero molto tempestoso Frecciamento, frecciamento, frecciamento Meccati in pista Combatti, Harry Kane! Salve, guardiani! Ehi, dove sono i guardiani? È per questo che ti ho chiamato. Vedi, sono stati catturati. Posso continuare a giocare? Non vedo perché no. Superforte! Pensate di poter scappare da me? Ora ho i poteri Omegar! La gialla oscura! Romance! Romance! È troppo divertente! Ciao, bruttezza. Mi ero scordato di te. E anche di loro! Ha ragione. Se il sigillo scappa un'altra volta, i nostri amici saranno... Spazzati via! Esatto! Quindi arrendetevi subito! Oppure li spazzerò via io stesso! Voi, pagliacci, avete cercato di giocare con troppe cose insieme! Ha ragione. Ciclone esplosivo! Cosa? La gialla oscura! Cosa stai? Bel lavoro, amico mio! Gormiti, gormiti, raggiungibili, chi mi fermerà? The legend is back! The legend is back! Gormiti! Gormiti!